Siamo qui stamattina riuniti per la prima giusta del Consiglio e vi do l'avventura dei 5 punti che sono praticamente a volte di te ciò. Facciamo l'appello dei consiglieri comunali presenti, dopo che vi do l'avventura del Consiglio e la prima giusta della storia. Cangola. Polizio Emilio. Capanna Andrea. Esposito Bernardo. Del Presidente Joan. Esposito Cassino. Presente, Monaco Giuseppe, Iodice Salvatore, Carluccio Peale, Iletoma, Anto Ferdinando, Artente, Presente, Mariano Giovanni, Presente, L'Estaenza di Cosa, Presente, Passato di Sette, Presente, Sofio, Presente, Mieta Pasquale, Assente, Ferrara Mato, Assente, Cervone a Mieto, Assente, Petrone da Sette, Presente, Andavano, Presente, Cortese Salvatore, Presente, Presente, Montiomato, Presente, Mioce Massimo, Assente, Ferrara Sette, Presente, La Teduta è valida, Presente, Presente, La Teduta è valida, Assente, Noi, Assente, La Teduta è valida, Assente, Assente, Presente, La Teduta è valida, Assente, Presente, Presente, Comunicazione di componenti della giusta comunale, e elezione della commissione elettorale governabile. Passiamo al primo capo all'ordine del giorno, la combattia degli eletti. In relazione alla combattia degli eletti ci sono dei documenti che offrono uno che vengano presi in età per prima di dare l'eventura. Allora, dobbiamo parlare di un documento che ha approvvito dei video del consiglio comunale della città di Cassuzia, che è finita la possibilità di presentare il consiglio comunale, con il documento del consiglio comunale, che ha approvvito dei video del consiglio comunale, che ha approvvito dei video del consiglio comunale, e in relazione alla associazione comunale e politica, che ha approvvito dei video del consiglio comunale, Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.